Grazie a tutti. La processione del Venerdì Santo che si è svolta ieri sera a Sulmona, processione con il ritorno delle vecchie glorie, lunga e diretta da parte della nostra emittente che è stata seguita ovunque, anche in Irlanda. Sentiamo nel servizio di Andrea D'Aurelio. La processione del Venerdì Santo Dalla Scozia e dal nord Irlanda, passando per il Canada, per finire con le Marche e la Toscana, è stata seguita da tutto il mondo la diretta televisiva di Onda TV della processione del Venerdì Santo, che ieri si è ripetuta a Sulmona ed è stata organizzata per il 191esimo anno di fila dall'Arci Confraternita della Santissima Trinità dopo il passaggio dalla Congrega dei Nobili. Il corteo processionale ha preso le mosse qualche minuto dopo le 20 dalla Chiesa della Santissima Trinità, lì è rientrato verso mezzanotte. Tutto si è svolto secondo tradizione, con il Vescovo di Sumona Valva Michele Fusco, che nella preghiera finale si è detto emozionato di aver preso parte per la prima volta al Pio Esercizio. Lui è una delle novità dell'edizione 2018, che è stata l'insegna del patos, del bagno di folla, con migliaia di persone che si sono riversate nelle piazze e nei quartieri cittadini, e della sicurezza, con un grande dispiegamento di volontari e forse dell'ordine, che hanno tenuto tutto sotto controllo. Per qualcuno è stata un'impresa raggiungere il centro storico dopo l'ordinanza sulla viabilità. Emozioni estrette di mano, come al solito, durante il cambio fra i trinitari lauretani, che è venuto all'altezza dell'acquedotto medievale. Apprezzatissimo il coro composto da 130 elementi, diretto dai maestri Alessandro Sabatini e Mirko Caruso, coadiuvati da Ezio Barcone, nipote di Federico, che ha composto il miserere. Fra i cantori c'era anche Marcello Lancia, alla sua cinquantesima presenza di fila. Ma sicuramente è il tipi soli che facciamo quest'anno, cioè quello di Scotti, il pezzo, almeno per me, più toccante. Ma è stato l'anno che ha segnato anche il ritorno delle vecchie glorie, come Massimo Carugno ed Ezio Sestini, che dopo diversi anni hanno aperto la processione con la prima fila dei Lampioni. La copertura della diretta televisiva è di 13.781 persone, 108 e mi piace su Facebook, 57 commenti e 63 condivisioni. Numeri che infondono fiducia e dimostrano come sulmonese all'estero e non solo, seguendo le nostre immagini, si sentono a casa. I riti proseguono dalla tomba a San Filippo, questa sera i lauretani consegnano la Madonna. Sabato Santo, il giorno del silenzio e dell'attesa che in città viene celebrato con la piccola ma raccolta processione della confraternia di Santa Maria di Loreto, che questa sera alle ore 21 circa prenderà le mosse dalla chiesa di Santa Maria della Tomba fino alla chiesa di San Filippo Neri. I lauretani consegneranno la statua della Madonna alla comunità parrocchiale di Sant'Agata, che subito dopo si raccoglierà in preghiera per la veglia pasquale, e la tradizionale camminarella del sabato santo che stende un fascio di luce sul cuore del centro storico e incrocia lo sguardo dei più curiosi e di quanti, incredibile ma vero, ancora non conoscono questa tradizione. Vestita a lutto con un bellissimo manto nero, fissatole sull'abito la sera del giovedì santo secondo un'antica tecnica tenuta segreta di cui sono custodi con fratelli lauretani, la Vergine, che correrà in piazza Garibaldi, sarà trasportata in corteo tra Fiaccole e Lampioni, da piazza Plebiscito a piazza Garibaldi. Nella chiesa di San Filippo sarà celebrata la Santa Messa e la veglia pasquale, in attesa della dovenica di Pasqua, quando, all'altezza del fontanone, quel manto nero cadrà e sarà la gioia per la madre che corre incontro al figlio risorto. Un piccolo corteo processionale che strappa sempre qualche lacrima. Ad aprire la fila dei Lampioni sarà proprio la quadriglia che seguirà la corsa. Intanto c'è grande attesa per la corsa della Madonna, evento clou della Pasqua sulmonese, in programma domani mattina in piazza Garibaldi a Sulmona, il servizio di presentazione è di Andrea D'Aurelio. Fabrizio Centracchio, Fabrizio Litigante, Domenico Giovannucci, Vincenzo Valentini, domani quattro lauretani che seguiranno la corsa della Madonna in piazza Garibaldi avranno gli occhi puntati, come del resto l'intera sacra rappresentazione che quest'anno unisce patos e trasporto interiore alla sicurezza, con una serie di novità che rientrano nel piano di emergenza a Varatora Comune. Saranno otto i varchi dislocati nell'ingresso di piazza Garibaldi, tre presso Largo Mercatello, uno in via Dorrucci, uno in via Santa Margherita, uno nella zona sottostante la scalinata di Santa Chiara, uno all'ingresso del parcheggio di Santa Chiara, uno presso la gradinata sotto l'acquedotto medievale. 15 minuti prima della corsa, momento clou della manifestazione Madonna che scappa, che verrà intorno a mezzogiorno, i varchi saranno ridotti a tre, uno in Largo Mercatello, uno all'ingresso del parcheggio di Santa Chiara, uno alla gradinata sotto l'acquedotto, mentre i restanti varchi diventeranno vie di fuga. Gli accessi saranno presidiati da personale formato, forse dell'ordine volontari di associazioni cittadine e carabinieri in pensione. Gli steward avranno il combino di stradare e orientare i flussi d'ingresso, consegnando biglietti numerati e contapersone per un numero massimo di 10.000, in attesa di poter disporre di dispositivi elettronici all'avanguardia da attivare nei futuri eventi. Vigileranno inoltre in merito all'eventuale introduzione di oggetti pericolosi e potenzialmente atti ad offendere e di contenitori di vetro e metallici durante l'evento nella piazza, secondo l'ordinanza firmata da Sindaco numero 27 del 30 marzo 2018. Parteciperanno alle operazioni i volontari della protezione civile del territorio e dell'ANA. Con ordinanza sindacale sarà disposta ad apertura del COC, in cui vengono attivate le funzioni di volontariato, amministrativa e sanità, con due ambulanze che saranno posizionate in piazza Garibaldi e piazza del Carmine. Prima dell'inizio del rito della Madonna che scappa sarà celebrata la Santa Messa dal Vescovo Michele Fusco. La diretta dell'emittente televisiva Onda TV sarà trasmessa sul canale 18 del Digitale Terrestre, visibile in tutta la provincia dell'Aquila, sul canale 171 del Digitale Terrestre, visibile sul territorio nazionale, sul canale 890 di Sky, visibile in tutta Europa, sulla nostra pagina Facebook e sulla piattaforma di Youtube, oltre a servizio streaming sul sito internet www.ondatv.tv, sezione diretta web. Il collegamento comincerà alle ore 11. Adesso lasciamo i riti pasquali della Settimana Santa per occuparci del metanodotto della Snam. Tutti i parlamentari pentastellati chiedono al Governo di annullare la convocazione, la convocazione per la centrale Snam, per il metanodotto della Snam. Sentiamo nel servizio. E' del tutto evidente che l'attuale Governo dimissionario non ha alcuna legittimazione a proseguire l'iter autorizzatorio di un'opera dichiarata strategica, in quanto il presupposto di ogni attività di Governo è l'iniziale fiducia accordata dalle Camere. E' un passaggio della lettera dei parlamentari abruzzesi del Movimento 5 Stelle, che in merito alla convocazione sul metanodotto Snam del prossimo 4 aprile chiedono di rimandare ogni atto al prossimo Governo che ottenga la fiducia del Parlamento. I firmatari ritengono che a pochi giorni dalla notizia delle dimissioni del Presidente del Consiglio Gentiloni sia roveroso sollevare i dubbi sulla legittimità procedurale che riguarda qualsiasi atto del Governo conseguente a un atto politico. Infatti, a seguito delle dimissioni, il Governo rimane in carica solo per il disbrigo degli affari correnti, cioè di atti indifferibili e urgenti, e quindi estranei all'esercizio dell'indirizzo politico. A lanciare un appello a tutti i parlamentari è stata Anna Maria Casini, Sindaco di Sulmona. Chiedo ai parlamentari neoeletti del nostro collegio di farsi parte attiva nelle sedi opportune affinché venga bloccata la procedura sospesa alla Conferenza dei Servizi, ribadendo formalmente la contrarietà di istituzioni e cittadini di una vasta area abruzzese ad un'opera dannosa per l'intero territorio, dando forza a quanto hanno dichiarato in questi giorni, parlando di illegittimità procedurale su questo atto di Governo, ha scritto ieri il Sindaco. Il centrosidistra riflette sugli errori e sulla sconfitta elettorale alle recenti politiche del 4 marzo e guarda alle prossime elezioni regionali in Abruzzo. Ne abbiamo parlato questa mattina con Stefania Pezzopane, senatrice uscente, eletta alla Camera dei Deputati per il Partito Democratico. Ascoltiamo. È necessaria una rivoluzione dentro il Partito Democratico, è necessario un riferimento a questo voto che sia un approfondimento serio, un approfondimento serio per capire e correggere gli errori e capirli innanzitutto ascoltando. Infatti anche questa giornata, così come tante altre giornate, io le ho proprio dedicate, le sto dedicando all'ascolto delle persone. troppi compagni di strada hanno cambiato strada, il nostro voto è andato verso i 5 Stelle, anche verso la Lega, solo una piccola parte verso l'EU e questo ovviamente ci impone una riflessione seria che stiamo facendo sia a livello nazionale che a livello locale. Si tratta di rimettere un ragionamento in piedi, di rapporto diretto con le persone e si tratta anche di non sbagliare adesso in Parlamento. Prima nessuno ci voleva, per tutta la campagna elettorale è stato seminato odio contro il Partito Democratico e adesso tutti ci cercano, tutti ci vogliono. Chi informa diretta, chi informa indiretta e persino certa stampa che ha fatto di tutto per in qualche modo colpire il Partito Democratico in questi mesi, adesso ci blandisce per fare accordi non si sa con chi e perché. Noi vogliamo ripartire dai contenuti, abbiamo fatto già delle riunioni importanti, l'elettorato ci ha dato un voto con il quale noi non possiamo guidare il Paese e quindi abbiamo scelto la linea di essere un'opposizione seria che pensa ai problemi dei cittadini ma opposizione. Come state lavorando in vista delle regionali in Abruzzo? Ricostruire una coalizione, individuare una figura di riferimento che possa allargare i margini della coalizione con cui stiamo governando e cercare di, in qualche modo, anche alla luce delle tante iniziative assunte in questi anni dall'amministrazione regionale, di migliorare il lavoro e di riproporci per un nuovo quinquennio. Il lavoro della Regione è stato sicuramente importante e si tratta in questi mesi, e questo è anche un argomento di discussione interna a noi, di incrementare le energie, le risorse, la motivazione sulle questioni sociali, sull'emergenza sociale, su chi sta ai margini della società, su chi sta più male. Molto del voto negativo che ci ha purtroppo puniti in questa vicenda elettorale deriva proprio da ceti sociali, da ambienti sociali che non si sono più visti rappresentati e quindi dobbiamo fare un'analisi seria, un discorso serio, ricostruire, rigenerarci una rivoluzione difficile ma senza la quale il Partito Democratico potrebbe continuare a soffrire fuga di elettori e non ce lo possiamo permettere anche perché, come si vede, i voti che sono stati attribuiti ai Cinque Stelle e alla Lega oggi sono voti improduttivi che non stanno determinando una vera possibile coalizione. Torna la paura per il terremoto all'Aquila. Nella notte è stata avvertita una scossa che ha svegliato l'Aquila ed è stata sentita anche in Valle Peligna. Ce ne parla nel servizio Andrea D'Aurelio. Una scossa di terremoto di manitudo 3.9 è stata registrata alle 3.18 con epicentro a 7 km a dest dell'Aquila ed ipocentro a 20 km di profondità. Lo si apprende dalle rilevazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Multiconologia, l'Ingv. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione ma fortunatamente non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. Una replica di manitudo 2 è seguita 12 minuti dopo la prima scossa, alle 3.28 circa. Il capologo abruzzese e la sua provincia sono stati colpiti 6 aprile del 2009, dal devastante terremoto di manitudo 6.3 che ha causato oltre 300 morti ed enormi danni. Il pensiero è andato subito a quella maledetta data. Un terremoto che ha fatto svegliare anche sul mone la Valle Peligna, anche se qualcuno in città era andato a letto da poco visto la passeggiata post-processione. E' tornata quindi la paura del terremoto soprattutto sui social dove sono arrivate centinaia di segnalazioni, ma danni fortunatamente non ce ne sono. A causa del cedimento della sede stradale in Via Davalos a Pescara, avvenuto due giorni fa, sarà chiuso al transito fino al 6 aprile prossimo il tratto compreso fra la rotatoria della Pineta e l'intersezione con Via Elettra. La causa del cedimento fa sapere il comune da collegare al problema di una condotta che corre a 4 metri dalla superficie stradale. L'ACA, azienda comprensoriale acquedottistica, ha subito messo in sicurezza l'area in attesa dello svolgimento dei lavori che fa sapere ancora il comune. Data la profondità della rete fognante che ha causato il danno richiedono la chiusura della strada fino al 6 aprile. L'intervento per la soluzione del problema inizierà martedì 3, ha comunicato l'ACA al comune per poter agire con i tempi necessari a ripristinare strada e mobilità in sicurezza. e adesso torniamo a Sulmona per occuparci del bimillenario ovidiano e della proroga che c'è stata per le celebrazioni appunto per il bimillenario di Ovidio, i soldi da spendere e i sogni nel cassetto. Approfondiamo questa tematica nel servizio di Andrea D'Aurelio. Un'opera bronzea che ritrae il logo del bimillenario ovidiano realizzato da Godenzio Ciotti che sarà donata da un privato alla città e una lettera sferita al ministro dei beni culturali Dario Franceschini per chiedere conto dei 700 mila euro stanziali da Parlamento e avviare una sorta di interlocuzione. Si apre la fase 2 di Ovidio 2017 dopo un bilancio agrodolce. Le celebrazioni proseguiranno fino alla fine del 2018. L'obiettivo è quello di pubblicare gli atti del convegno di studi che nell'aprile dello scorso anno aprì il bimillenario e distribuirlo a tutte le università del mondo. Ma c'è dell'altro. Fra i buoni ospici l'intento dell'amministrazione comunale è quello di rafforzare i legami con costanza e coltivare una serie di soldini e cassetto per impiegare risorse che arrivano dal Parlamento. Il sindaco Ana Maria Casini sta pensando a una rassegna internazionale di livello che mette al centro l'arte e la cultura e divenga un appuntamento fisso per la città ma anche a delle installazioni in alcuni luoghi culturali strategici. Una sorta di mostra permanente che rappresenterebbe un altro segno del bimillenario ovidiano. L'opera invece è affidata a un privato che al momento resta in incognito per non rovinare la sorpresa alla città. Da parte del primo cittadino c'è la rassicurazione che tutto sta andando avanti. Presto riceveremo in dono questo regalo, afferma il sindaco, spiegando che al momento tutto resta in sospeso in attesa di comunicazioni dall'alto. Le sue emissive in effetti non hanno ancora trovato una risposta e non è che di tempo ce n'è molto visto che soprattutto albergatori e operatori turistici immaginavano il bimillenario come un evento che doveva servire da traino per l'economia. Fondi e nuove idee arrivano in zona Cesarini. I fondi saranno gestiti da un comitato del Ministero dal momento che il bimillenario è stato riconosciuto evento di interesse nazionale. Resto torniamo nell'Aquilano per occuparci degli impianti di Campo Imperatore dove si punta sul turismo in questo weekend di Pasqua. C'è stata appunto la riapertura degli impianti sciistici di Campo Imperatore. Finalmente si scia, finalmente l'ostello è aperto ma la stagione turistica economica è finita da tempo. Scarsa affluenza e tempo incerto, afferma Luigi Faccia, direttore della scuola di Scidia Sergi, sul primo giorno di apertura della stagione scistica di Campo Imperatore. La stagione turistica economica è finita da tempo, prosegue. Sapevamo a cosa andavamo incontro. Tu apriresti uno stabilimento balneare ad ottobre? È quanto si chiede. Anche se c'è tanta acqua, tanta sabbia e fa caldo? Il messaggio è più che chiaro, mentre le altre stazioni scistiche si avviano alla chiusura, quella di Campo Imperatore con l'enorme ritardo causato dai lavori alle fontari. Dei primi giorni dello scorso dicembre sono stati tanti gli annunci di apertura degli impianti, poi puntualmente smentiti e quanto fa notare il direttore della scuola di sci di Assergi. All'inaugurazione comunque sono intervenuti, il vice sindaco dell'Aquila Guido Quintino Liris e il consigliere comunale Leonardo Scimia, l'amministratore protempore del centro turistico del Gran Sasso Domenico De Nardis e il direttore della scuola sci a Assergi Gran Sasso, appunto Luigi Faccia. Campo Imperatore anche quest'anno è prima tra le stazioni scistiche europee per quantità di neve, il manto bianco raggiunge i 520 centimetri di sola neve naturale. Adesso torniamo a Sulmona, Pasqua e Pasquetta all'insegna della cultura. Riapre Ovidi Taberna nella rotonda di San Francesco. Il servizio è di Andrea D'Aurelio. Riapre Ovidi Taberna nel corso dei reti pasquali. La giornalista Chiara Buccini, quali sono le novità di questa edizione? Le novità innanzitutto siamo tornati qui nella rotonda di San Francesco, una location congeniale perché è proprio nel cuore del centro storico e quindi dei reti di Pasqua. Le novità è un allestimento completamente nuovo perché abbiamo cercato nell'allestimento proprio di agevolare il visitatore, soprattutto colui che non è avvezzo allo studio e alla conoscenza del libro antico. Quindi un percorso più agevolato attraverso i pezzi più importanti della collezione e poi abbiamo lasciato uno spazio proprio per le opere straniere, quindi Ovidio in tedesco, in inglese, in francese e anche Ovidio comunque pubblicato in latino ma pubblicato all'estero. Quindi abbiamo cercato di, ripeto, di agevolare il visitatore perché come abbiamo visto a Pasqua c'è un turismo diverso, un po' un turismo culturale però un po' mordi e fuggi. Quindi cerchiamo di dare, dedicare meno tempo alla visita guidata però con maggior contenuti. Si può anche allungare la presenza turistica, pensiamo al giorno di Pasquetta che è vuoto, quindi questa diventa un'offerta. Sì, sì, noi a Pasquetta come DMC ci siamo, è una proposta, un'offerta culturale sempre con i nostri percorsi guidati all'interno della mostra. Gli orari di apertura? Pasquetta faremo orario continuato e saremo aperti ovviamente anche domani e a Pasqua. Due giornate di proiezione gratuita del primo docufilm italiano sull'autismo, Tommy e gli altri, ideato e scritto da Gianluca Nicoletti e diretto da Massimiliano Sbrolla per la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Le ha organizzate Autismo Abruzzo Ollus all'Aquila il 2 aprile alle 18 al Cinema Moviplex e a Teramo il 4 aprile alle 20 e 45 al Cinema Smeraldo. Proiettato al Senato nel novembre 2017, poi in un tour nelle scuole e un film irriverente, ironico, impertinente, emozionante e commovente che saprà scuotere le anime con il racconto diretto della quotidianità di giovani autistici al bivio fra adolescenza ed età adulta. Il giornalista Nicoletti, accanto al figlio di ciottenne, racconta l'Italia degli autistici adulti, spesso ignorati da società e istituzioni, dall'incontro con gli amici di Tommy e le loro famiglie, storie di solitudine e abbandono, ma anche coraggio e forza di volontà. È prepotente una domanda, cosa sarà di loro quando i genitori saranno anziani o non ci saranno più? E questa la domanda che appunto gli organizzatori dell'evento sottopongono a coloro che interverranno a queste due giornate, ripetiamo, il 2 aprile all'Aquila e il giorno 4 a Teramo. Adesso passiamo alla programmazione cinematografica per quanto riguarda le sale cinematografiche della Valle Peligna. alla multisala Igioland di Corfinio sono in programmazione i film Ridi Player One alle 18.30 e 21.10. Io c'è alle 18.10 e 21.10 Peter Rabbit con unica proiezione alle 18, mentre al Cinema Pacifico di Sulmona è in programmazione ancora una festa esagerata di Vincenzo Salemme. Bene, è tutto per questa edizione del giorno del nostro telegiornale, grazie della cortesa attenzione, prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20 sul canale 18 del Digitale Terrestre, in streaming sul nostro sito www.ondatv.tv oppure anche sulla nostra pagina Facebook. Grazie per essere stati con noi, ci salutiamo con il meteo, buona giornata e buona Pasqua a tutti voi. Sulla nostra regione condizioni generali di maltempo sul settore occidentale, in particolare nella Marsica e nell'Aquilano e sulle zone montuose con rovesci diffusi, occasionalmente a carattere temporalesco, accompagnate da raffiche di vento. Parzialmente nuvoloso o nuvoloso sul settore centro-orientale e costiero, con venti di libeccio in ulteriore intensificazione, previste forti raffiche localmente superiori ai 60-80 km orari, specie sulle zone pedecollinari e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico. Non si escludono rovesci in sconfinamento verso il settore orientale e costiero, tuttavia la probabilità di precipitazioni risulterà più elevata sulle zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico. Successivamente assisteremo ad un ulteriore calo delle temperature, ad iniziare dal settore occidentale e ciò favorirà il ritorno della neve sui nostri rilievi al di sopra dei 1200-1400 metri, localmente a quote più basse in caso di precipitazioni temporalesche. Temperature in ulteriore lieve aumento, specie sul settore orientale e costiero, ma poi è prevista una generale diminuzione in estensione verso il settore orientale e costiero. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali, con raffiche localmente superiori ai 60-80 km orari, specie sulle zone montuose e sul versante orientale, mare mosso o molto mosso.